Siamo all'evento Beer Revolution del birrificio Baladen con Teo Musso che ci spiega oggi la grande novità per l'azienda, per il suo presente ma soprattutto per il suo futuro. Con questa operazione abbiamo deciso di crescere mantenendo l'indipendenza e l'artigianalità usando uno strumento assolutamente innovativo per quello che riguarda l'Italia per le imprese che è un equity crowdfunding e su questo probabilmente è il mio figlio più bravo di me. Passiamo al microfono a Isaac Musso che ci spiega nel dettaglio qual è il progetto che viene presentato oggi per il futuro del birrificio. Beer Revolution è un progetto che abbiamo costruito negli ultimi mesi in cui abbiamo deciso di vedere il Baladen nei prossimi 5 anni. Baladen per noi è una nostra azienda di famiglia, io personalmente porto una birra con il mio nome e quindi è un'emozione grande per crescere questa azienda e grazie a tre progetti che abbiamo iniziato a costruire e a disegnare grazie a questa campagna di equity crowdfunding lanceremo questi tre progetti, uno di crescita dell'azienda, uno più ISV con la costruzione di un pozzo e un terzo invece di una start up di un birrificio completamente innovativo. Il nostro grande goal è quello di portare la nostra azienda a crescere in maniera sana e organica mantenendo la conduzione familiare e farci partecipare il più possibile in tutta la nostra community di appassionati e del birrificio di Beer Revolution.